Questa è stata scritta dal grande maestro Raul Casadei, apposta per i nostri solisti, eccola qua! Ed è la fisica per voi! E va là che parte Francesco, alla visarmonica! A lì, a lì, a lì, dai che si va! Paolo Maclarino! Grazie a tutti! E questo è Alessandro! al basso e lo soffle i voi e voilà e voilà vai 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 a lei che in questo punto partono insieme Alessandro e Massimo e la due playboy e voilà e voilà e voilà e e e e e e voilà la fisica bravi grazie signore grazie grazie